In compagnia di Roberto Giurastante, presidente del Movimento Trieste Libera, siamo a Trebiciano, in una grotta proprio di Trebiciano, di quest'area che è fortemente inquinata da idrocarburi. Ma sì, questa è purtroppo l'area dell'ex discarica di Trebiciano. La discarica di Trebiciano era una delle maggiori discariche che sono state realizzate appunto nel territorio libero di Trieste, all'epoca, ancora a metà anni, diciamo negli anni 70, in cui il carso poi era utilizzato intensamente per lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Le grotte come questa appunto venivano utilizzate per lo scarico e lo smaltimento degli idrocarburi esausti, i prodotti della lavorazione, delle raffinerie o del lavaggio delle cisterne e delle petroliere. Qui per esempio si è creato un lago di idrocarburi che poi è stato parzialmente assorbito dal terreno permeabile e naturalmente carsico. È una situazione tipica di questo inquinamento massiccio che troviamo qui a Trebiciano e sull'intero carso. In una scala di gravità come si può definire quest'area? Cioè è fortemente inquinata, è mediamente inquinata? Quest'area è fortemente inquinata, consideriamo che qui vicino, anzi qui sotto a noi passa il fiume Timavo che riforniva fino a qualche decennio ormai l'acquedotto di Trieste e poi non si è dovuta interrompere appunto questa fornitura a causa proprio di questo avvelenamento più che inquinamento e questa è una delle aree appunto più contaminate del carso. Questa è la bocca da cui si scaricava dentro le grotte, l'abbiamo vista da sotto? Sì, questo è l'inghiottitoio verticale, semplicemente le cisterne che erano oltretutto scortate anche dalle forze dell'ordine arrivavano in quest'area, prima di arrivare nell'area principale della discarica di Trebiciano venivano inviate in queste grotte, qui scaricavano direttamente con le maniche gli idrocarburi quindi svuotando le cisterne e quindi poi purtroppo nelle grotte si creavano queste grandi discariche di questi laghi di idrocarburi che abbiamo visto. Grazie